La sezione ANA di Bergamo già da cinque anni porta avanti questo progetto interessante che ha coinvolto tanti giovani. I campi scuola sono un'iniziativa nata sì cinque anni fa. Inizialmente era un esperimento che si faceva, è nato in un gruppo, almeno San Bartolomeo per la precisione, però noi abbiamo subito iniziato a ragionare anche con i militari e portare i ragazzi a San Candido. In questi cinque anni la cosa ha avuto una sua evoluzione naturale. Si è passati da un campo scuola a una quindicina di campi scuola nel 10-15 a secondo delle durate e delle tempistiche che abbiamo in cui sono presenti i ragazzi della scuola elementare, i ragazzi della scuola medie e quelli delle superiori. Quelli delle superiori fanno qualcosa di un po' più articolato e complesso, li portiamo o a San Candido o nella caserma a Curmaio in Valveni. I ragazzi invece un po' più giovani frequentano i nostri gruppi nei vari campi che vengono organizzati. Dai due giorni proprio i minimi a una settimana di durata. E le cose da imparare sono tante? Le cose da imparare sono tante, vedono comunque soprattutto la protezione civile, ma oltre che la protezione civile c'è la cosa che è alla base di tutto è imparare a dire sì quando tante volte verrebbe voglia ai ragazzi di dire ma faccia qualcos'altro. Per cui anche mettere un po' di rigore se si vuole che non guasta e fare capire che c'è un modo di vivere la quotidianità ma anche con una certa capacità di darsi da fare, di impegnarsi per gli altri e comunque essere contenti e passare anche qualche giornata di tempo libero. Magari c'è qualche genitore che vuole mandarvi qualche giovane giusto per insegnare un po' di disciplina. Beh diciamo che in qualche occasione sono state le madri che hanno detto perché non allungate il campo di qualche giorno o in alternativa i mariti che hanno detto perché non fate un campo per le signore così teniamo a casa i ragazzi noi. Però queste sono battute. Però no, i genitori in effetti chiedono che ci sia questa opportunità e in qualche caso abbiamo avuto anche difficoltà a soddisfare tutte le richieste.